Il Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo in Campania. Questo è il tema del convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli per fare il punto su un microcredito, credito d'imposta, alta formazione ed alternanza scuola-lavoro in Campania. Un momento importante di riflessione sullo strumento a finanziamento delle idee giovani e innovative in questo nuovo concetto di fare impresa. Certamente gli imprenditori, piccoli imprenditori, soprattutto i giovani, hanno bisogno di essere supportati, di essere avviati e sicuramente di essere eseguiti in una fase delicata che è quella dello start-up delle imprese. Credo che come commercialisti noi abbiamo sempre avuto un ruolo centrale nel mondo economico e oggi ancora di più in questo momento di grandissima crisi economico-finanziaria abbiamo il dovere soprattutto di supportare ai giovani e fare in modo che tante piccole imprese possano nascere e non vedere soltanto la fine di tante imprese come sta avvenendo oggi. Spiegare soprattutto ai giovani come è avviare la pratica, come è avviare il progetto, quali sono tutti i supporti necessari per poter arrivare alla determinazione, allo start-up dell'impresa per poi arrivare a una fase di regime. Quindi credo che l'attività di consulenza è completa ed è a 360 gradi. abbiamo intenzione di istituire presso il nostro ordine uno sportello che possa in qualche modo dare le informazioni necessarie e dare tutta la consulenza gratuita che è necessaria dare a questi giovani proprio per favorire loro uno sviluppo e andare avanti su queste idee, su questi progetti che sono tanti e dobbiamo fare in modo che i giovani non vadano via dalla nostra regione ma che ci restino con delle idee e con dei progetti da realizzare.